Allora, allora, io con la chain, ragazzi, con la chain, sono rimasto un po' di merda, veramente, ok? Ho già fatto 8 run, una roba del genere, questo è il mio record, 55%, lo faccio cagare, 54 milioni. Cioè, allora, 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 io ora vado a riprendere le tue immagini, Raffi, perché tu hai fatto la run e tutto. Allora, nel super avevi 19, io 18, tu avevi 2 e io avevo 5 qua sotto, Poi non l'ho visto sotto, era 23, però... Quello 4 più o meno... Ne avevi un in più, ne avevi un in più, 24, io avevo 23. Invece gli extreme avevo 32, avevi 34. Sotto avevi, non si vede, io ne avevo uno solo, poi avevo 24. E nei linker sopra io ho 4, tu avevi 10, perché tu hai preso tutti gli extreme, tu hai preso tutti gli extreme. Invece ho preso Giren Giren Rosè, ok? Aspetta un secondo o ti dico quelli là che non si vedono nell'immagine? Eh, ok, è per quello, è per quello, ok, ho capito dove ho sbagliato. Allora, UR, STR, super, mettiamo, mettiamo Gironno, Saronno, Gironno, Saronno, ok. Secondo, prendo un team a cacchio ora, poi ci metto topo nel coso... Tu che ci hai messo? Rosè, STR, immagino, vero? No, 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 no. Blackhink, Blackhink è quello che linka meglio di tutti. Oh madonna, oh madonna, tutto full ability sto qui. Uh, poggers. Ok, fatemi fixare il team super. Oh, questo è buono, no, questo non è buono, però Giren... Giren, topo Eza, topo nuovo... Cerca, il mio consiglio è, cerca uno con Giren, topo... Giren LR, Giren LR, topo e... Vabbè, Dispo non credo, però Giren... Oh, questo ce l'ha? Questo ce l'ha? Però c'ha Beerus? Non lo so se è con Beerus, c'ha Beerus e GodQ? Ok, quindi devo migliorare... La so, 320 e 34, 34, ok. Devo migliorare il team super. Secondo me è meglio provare a fare una somma di tutti maggiore dei miei, se non uguale. Capito? Prendiamo, prendiamo sto Fubuki, vediamo un po'. 18, 3, 22. No, è peggio del tuo. Ah, un attimo, una chat. Che qua la preparazione, no, come al solito è un po' lunga. Questo c'ha l'LR blu, vediamo. 17, 2, 18. No, ok, qua shafto poi nei super. I ticket che danno nella bacia di Rosé Broglie... I ticket che danno... No, non danno... Ah, no, ah, ok. No, ma quelli non ci... Credo non ci saranno nel global, quei ticket. Oh, qua c'è top, dispo e giren. Vediamo un po'. 17, 4, 19. No. Sì, ma non si trova nessuno con la roba buona. Eh, ok. No, ma è giren fake LR. Cioè, che merda. Eh, dei poveri. 18, 2, 16. No, non va bene. Devo trovare un super buono, ma... Eh, qua c'è dispo e giren, non va bene. Allora. Il tipo che ho usato io per i super è uno del server. Ok. Sì, ma potrei sculare il tizio che ha tutti i rose full ability e ha tutti i giren full ability, cioè. Eh, ho capito, sculalo. Sì, lo so, è un po' difficile. Lo so. L'unica parte che devono migliorare è questa. Oh, c'è una Raku. C'è una Raku. Vediamo una Raku. 1, 2, 2. 18, 1, 19. Quanto avevi te? Eh, come era l'ultimo? Eh, 19, 2, 23 se non si parla. Ok. Eh, c'era giren nell'R prima. Sì, ma faceva schifo il team in generale. C'aveva la robaccia della merda. Non va bene. Non è che c'è giren nell'R lo piglio. Deve essere... La gente qui deve fare il team migliore. Allora, io questo. 17, 3, 16. No, non va bene neanche questo. Maretta. Maretta c'è giren. Non ha tour. No. Poi c'hai le fusion che non linkano un cazzo con giren. Un link all'otto. Bella. GG, intanto te che fanno. Patri Twitch, grazie mille. Arcef, grazie mille. In NJCO. Sorry, se ho letto malissimo. Grazie, però. La gente ha visto GodKey. Sì, GodKey. Fubuki qua. Allora, Fubuki. E tu hai preso Fubuki, vero? No. Non so se ce l'ho nella lista amici. Solo che se lo aggiungo ora... Mi perdo quello full hub con gli extreme. Andiamo. Andiamo così. Il mio consiglio è... Tutti i black go. Tutti i black. Ok, vediamo. Tutti i black. Andiamo. Poi vedi che ora faccio 40 milioni. Yeah. No, non c'è ancora una data, Bacchero. Eh, adesso... Adesso... Sì, adesso... Dammela pure adesso. Tu fai una roba. Tu fai una roba. Se vedi... Due black rosè e un black normale, piglia di subito. Fatto. Madonna, quella faccia di... Di Freezer era ridicola. Harry, Harry, sono i miei stessi... Gli stessi che ho preso io. Solo che tu sono... Oh, non sta prendendo le botte stavolta. Yeah. Ma non ha fatto full power. Ah, non l'ha fatto. L'ha fatto, ha fatto full power. E la... La scritta sotto deve essere. Andiamo un po'. Eh, lol, Sam. 89. Porco diavolo morto. 33. Il terzo team per ora sembra essere buonissimo. 32, 33. 29, 27. Yes, per Saiyan al set. 30, 32. Efso. 28, 33. Satan. 25, 28. Sì, perché c'è anche... Ragazzi, best PG. Best PG, eh. Ricordatevelo. C'è un pala fanculo. Allora sta vincendo il terzo. Questo qua con... Eh, 24, 28. Perché c'è lo scrifo dei... Ma al massimo fai una roba. Prova col terzo. E vedi magari se Black LR e Int fa di più. Con... Ah, l'LR. No, non credo. Era il terzo, se non sbaglio. 32, 26. Vedi? No, no, no. È Black Int. È Black Int quello buono. È quello che linka di più. 31, no, aspetta, ma... Aspetta, ho beccato quello male. Terzo. 32, 33. Ci metto Black LR. No, sono partito! Rip, boys. Vabbè, andiamo di Black. Un attimo solo. Chat. Sono mezzo al momento. Una cosa dovevi fare. Una cosa dovevo fare. Non l'ho fatta. Ok, si parte. Tranquillità. Se il mouse non mi feila, ora lo fottiamo a sto cosa. Black Int, Black Ezza, Black LR. Buono. Black Zamasu, poi. Ok. Ok, hai vinto. Vediamo. Power. Vediamo, eh. 90. 90. 90. 90, 90, 90. Fuck, 90. Sì, sì, lascia perdere. Oi, oi, oi. C'è... Un po' tutto qui. Cazzo, non va bene? What? What? Non va bene, c'è una cosa che legge a ETA. Eh, forse per loro. No, ma questo... Questo qui non va bene. 17, 3, 19, no. Un attimo, chat, eh. Masawo. Eh no, c'è solo... Eh, sono ribeccato. A posto. A posto. Questa dovrebbe essere la run. 3 rosè per la vita. Let's go. Ciao, America. Tutto bene? Andiamo. Devi soltanto farlo fast. Sì, festa. Dove beccare anche il PG, però. Eh, Mickey, sera. Andiamo un po'. Speed! Andiamo. Eh, non c'è la rosè stavolta, porco demonio. Non c'è la rosè stavolta. Perché no? Non si è portato dietro la rosè. Non lo so se ti era. Perché non lo dà. Perché quello è randomico. No, non c'è. Ce la sono. Ce la sono. Stavolta, se c'è la passativa di gire. Per un... Dai, secondo me... Un attimo, eh. 98! Dai! Dai! Rega! 98! Chat. Tutti insieme. Sì, big F. Puliamo? Sì, dai, puliamo. Eh, sono sceso al 2-3%. LOL. LOL. Io sono all'1%. LOL. Puliamo, ragazzi. Puliamo. 20 casse. Bono! 20 casse. Speriamo in un qualche crit, in un qualche add. Level 5. Ragazzi, portate fortuna. Vediamo. Intel level 4 attacco. Level 5 add str. Ok. Lo potrei dare a Gogeta LR. Eh, gli altri fanno schifo? Sì. Altre 10 casse. Let's go, boy. Andiamo. Io ci sto per il più grande d'Italia. Eh, level 2 crit int. Level 1 crit AGL. Eh, questa fa schifo. Ok, questa ha fatto schifo. Ah beh, è vero, sì. Perché è vero. Chi lo diamo agli STR? Virus? Dai. A Goku Genkidama. Ma vaffanculo Goku Genkidama. Dai, su. Che cazzo vuoi che faccia? Lezza fra cinque anni. Ok? E non abbiamo beccato nient'altro, no? No. Vero, lo potevo dare a Cooler. Ci ho pensato troppo tardi. Grazie, Raspi. L'hai scritto troppo tardi. Lo potevo dare a Cooler. Grazie a tutti.